ragazzi io sono rientrato ora proprio stanco molto dalla vendita della mimosa a monga è ingassato un mare di sodio con la mimosa che ho venduto ma che è? intanto è per 12 persone non ha importanza ora ce la devo dare a clarissa ma che passa al fondo? ce la devo dare a cinza e gli anelli siciliani mi criticano sempre sempre maccheroni sempre questo fai gli anelli ma io li faccio anelli siciliani al foro vediamo tagliala ora questa si sprenduva perchè è caldissima mi sono bruciato anche il dito inaugurata la teglia nuova teglia nuova cosa adesso è questa teglia? ecco l'antica erava per i ninfo perchè era il ballerista era stato un regalo di nozze quindi di cent'anni fa ma perchè già c'erano questi teglia in pietra? si certo vabbè ragazzi no vabbè comunque oggi ho incassato un sacco di soldi ma non te ne do manco un euro si 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 con la mimosa oggi ho fatto veramente la straggia scalpore si si infatti mi chiamano il mimosaro di catania lo sai tu amò? mamma mia si rompe e niente niente ci fa tanto sono anelli madooo è sempre calda no vabbè è una importanza tardo un tuo stomaco buona cena ragazzi a tutti voi questa non è una rosticceria con questa splendida con questi splendidi anelli siciliani al forno a tra poco sotto il tocco le 22 amò ciao ragazzi guardate che bella no vabbè guardate che bella